Sono entusiasta di entrare a far parte di una squadra di lavoro eccezionale, di una comunità vivace da cui ho ricevuto un'accoglienza estremamente calorosa. E' quanto dichiara con entusiasmo la neodirettrice del Parco archeologico di Pestum, Velia Tiziana D'Angelo, al suo primo giorno di lavoro. Le criticità in sorte a causa dell'emergenza sanitaria degli ultimi due anni sono state affrontate e risolte egregiamente, aggiunge la direttrice, che è subentrata all'interim assunto da Massimo Osanna dopo l'avvicendamento con Gabriel Zugtriger, spostatosi alla direzione di Pompei. E il Parco, continuo alla D'Angelo, è pronto per una nuova fase di crescita. Con questa energia e motivazione ci metteremo immediatamente all'opera per pianificare un programma innovativo di tutela dei reperti e dei monumenti, avviare nuovi progetti di ricerca e implementare strategie di fruizione e comunicazione che rendano i siti di Pestum e Velia sempre più accessibili ed inclusivi. Tiziana D'Angelo è una delle più giovani direttrici di museo in Italia.